Vedi che apre Grandissimo Allora Immediatamente Immediatamente Loki Grandissimo Allora dobbiamo fare questo amico mio Che macchina scegliamo Ciao amici e amiche come state Tutto bene Ok Devo solo condividere un secondo Ciao ragazzi come state Allora oggi ho fatto degli altri giochini Carini, simpatici Stranded Sains Time of Portia Devo cercare di appendere il microfono Così non rompe le scatole Ok Telegram E via Facebook Ok E per ultimo Twitter Ok Bella Ecco qua Allora Vediamo un attimo Ciao amici Come state Allora Allora FXX L'avevo provata Ragazzi È un bagno di sangue Per quanto riguarda La benza Eh Ciao Stream element Ciao Sound alert Possiamo farla con l'f50 Proviamo Proviamo Ah è un tre giri Ah ok Perfetto Allora Devo solo Ok La f50 Si gira Si gira Appena Appena Togli il gas Quindi diciamo che non mi piace Ciao amici Amiche di Twitch Come state Marco Drums Games Channel È tornato per voi La facciamo con la Madonna Ma come mai la f50 è così Proviamo questa Lambo qua O la 4GT La 4GT va 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 via così Anche la 911 GT1 Eh Forse Nuove auto Per derapare Grande Grande La Ferrari Com'è Proviamo la Ferrari Dai Vediamo un attimo La Ferrari Com'è Ciao amici Amiche Buona Domenica Domenica a tutti E a tutte Allora Allora Gran Turismo Ci voleva Ci stava proprio dentro Oh mio Dio Questa Ferrari È una cosa Indecente Indecente No 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 Nel senso che ha Un botto di coppia Alle due ruote dietro Che non si riesce a tenere In strada Voglio andare con la Voglio provare La 911 Voglio provare La 911 Ciao amici Come state Grandissimi Hola Sharder Amico mio Come stai Grandissimo Che bello Vederti Grande 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 Dai Se poi torni presto Ci facciamo un online Se no mi faccio un po' Di gare normali E un po' Di online Normale Serio Ah non mi avevi detto Niente Amico mio Eh la scudo È tanta Oh 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 Uomo tigre Ciao uomo tigre Ciao Sharder Grazie per essere entrato A salutare Bella uomo tigre Se hai voglia Di giocare online Fammi sapere Che Sono disponibile Urca Scusa Lambo Oh Ma che cos'è Che mi fa girare Mi fa girare La macchina O sono loro Fammi capire Eh perché Oh cacchio È vero È vero Uomo tigre Me l'avevi detto Scusa Scusa Me l'avevi detto Me l'avevi detto Me l'avevi detto Che Cazzarola Chi comincia Come me Domani è il primo Giorno di ferie Perché oggi Sabato domenica Io non lavoro mai E chi invece Ricomincia Amico mio Mamma mia Questa gara qua La vedo Grande Ciao amici Amiche di Twitch Come state Ci divertiamo Con un po' Di Gran turismo Sempre se li Becco Se non ho Ne è divertente Allora Questa Orca Come va a drizza Eh sì Io sono bello Rilassato Allora Ti dico Che mi sono fatto Di quelle dormite Di pomeriggio Ciao Manuel Grande ragazzo Come stai Uomo Tigre Mi sono fatto Di quelle dormite Incredibili In due giorni Solo E poi Non è neanche ferie Bene 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 Grazie Grazie Io bene Emanue Grandissimo Sono contento Che stai bene Anche te C'è un bel ventozzo Ieri è piovuto Si è stato bene Si è riusciti a dormire Per bene Sta venendo giù I fulminozzi Weee Vertex Amico mio Come stai Vertex Allora Quando vuoi fare L'online Me lo dici Che lo facciamo Io adesso sto facendo Le due prove Dei biglietti C'è Dei menu Scusate Poi andrò a fare Un po' di online Perché voglio platinarlo So bene Che quando si arriva Al platino Grande Grande Quando si arriva Al platino Poi dopo Si fa un po' fatica Ad andare avanti Ma io questa gara Credo di non riuscire A vincerla No Porca Loki Che non c'entra niente Loki Basta Ci sta Porca Loki Con che Cacchio di macchina Devo fare Ciao amici Come state Eh facile Però Allora La Ferrari Quando acceleri Gira Completamente Questa qua Non frena Questa qua È la È la 911 Della Porsche Ciao amici E amiche Come state Guardate Sennò devo prendere Una Lambo Ci sono tre giri Eh Ma io non vorrei Che il primo Ormai È già andato O Sennò Che il primo roba incredibile raga c'è con le gr1 qua si fa a pieno a pieno qui sono qua in quarta che devo stare attento perché è un pelo in più un pelo in meno scusami allora vedo che le ferrari però come spunto raga ci danno dentro che testa di cric questo che cos'è la stomata non male ciao amici e amiche a sto martin ti sto volendo addosso o non mi sono andato addosso cazzarola vabbè qua possiamo anche allargare che ce ne frega mclaren stai lì nel tuo guscio stai di tranquilla guardala guardala e la la ciao mclaren ciao amici e amiche di twitch come state ragazzi sto facendo la tre giri alle mani però tredici secondi dal quinto e sta aumentando ho capito perché non ho potuto usare la la clk che è una bestia la macchina che sto usando è è questa qui eh è la 911 raga purtroppo però quella brum 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 grande luigi come stai amico mio vedo le tue foto dal mare amico che figata io sono qui a lavorare per voi come stai amico credo che non giochi eh vedo le foto del mare quindi adesso sei là a spassartela come tutti voi amici eh ah ok ah ok sei tornato vabbè dai però vedevo le foto eh ah poi riparti grande 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 vediamo voi siete fortunati giù che avete il mare spettacolare io se devo venire al mare mi devo sparare 1200 km cazzarola volevo andare a trovare il mio amico Maurizio ma ah la switch si è la switch si sta così almeno se c'è qualche periodo morto della giornata mi dirà lax in spiaggia che figata che figata amico mio eh io questi qua non riesco mica a prenderli eh caspiterina dai in prima no cazza rola Marco allora il mia zamoto è qui è qui però dubito fortemente di riuscire a prenderli porca loca due fatti bene la terza col ciao amici amiche di twitch come state buone ferie a chi è in ferie e buon inizio a chi domani comincia a lavorare sempre in compagnia di Marco Dransgins porca ah 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 beh credo che un po' di penalti ci voleva lì però facciamo finta di nulla allora abbiamo recuperato il giapponese per andare a prendere Lopez la vedo dura quindi questa macchina non va non va bene non non riesco a capire perché non mi fa usare la o la McLaren questa qui la Enzo mi sembra non mi sembra male o forse questa macchinina qua non ce l'ho elaborata per nulla quindi è per quello che faccio fatica e non riesco a prenderli né in velocità mi mancava allora venerdì ho fatto una live fichissima sui dinosauri ne ho fatti crepare due su tre quindi diciamo che è data bene ma non benissimo povere dinosauri nelle mie mani credevo che era un gioco un po' più dinamico invece è molto fermo come tipologia di gioco Path of the Titans invece devo finire Stray il gioco del gatto lo voglio portare in live magari lo portiamo domani e non so neanche alla sera perché magari la sera facciamo gran turismo vediamo in base a se c'è Sharder e i nostri amici eh ragazzi qua quinto eh no 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 Ciao Kevin, amico mio! Come stai? Grandissimo Spray! Allora, c'è Carla e Leonardo che sono andati in giro in bicicletta e sta venendo su un temporalozzo da panico. Ah, Shardler! Grande! Uh, che mi ha dato via un po' di culo, eh! Va, va, va! No, 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 no! Senzato il Lega! Ah, grande Shardler! si abbiamo giocato gioco fighissimo sembra che sta funzionando l'online shard così possiamo continuare ad andare avanti anche se poi comunque ha fatto un errore e non ci ha salvato l'ultima gara allora quinto quinto che macchina uso eh si se funziona andiamo avanti che macchina uso ragazzi che non ci si cava un ragno dal buco si infatti si si vado subito a vederla e vediamo le livree ragazzi vediamo subito le livree non mi avevi detto niente amico mio 25 si beh cominciamo a vincerle così perché con i bot come sono messi adesso che meraviglia ma questa è tua però questa è tua proprio con il dragon con bella mamma che bella hai trovato un bellissimo lupo va a sharder con quella con quella bellissima bellissima cacchio dimmi che c'è anche per noi no la tuta della porsche grande ho bisogno che me la fai anche proprio mio amico mio come marco drums games la tuta così della porsche me la fai fantastic guarda la gente quando hai tempo mi fai proprio la tuta marco drums games della porsche dai la voglio amico mio ah questa è tua però è sharder questa è proprio tua non è del clan bella chi è che l'ha fatta questa fuori bella vertex bellissime bellissime guarda quando mi fai vedere queste cose poi mi viene voglia di averle anche per me amico mio bellissime costa vertex questa l'avevi già vista bellissime proprio mi piacciono un botto mi piacciono un botto vorrei vorrei eh questo è il casco del porsche eh le vorrei proprio anche per noi perché questa le stai facendo proprio marchio tuo eh tue tue grandissimo bellissime bellissime quella della porsche la vorrei sinceramente perché è troppo bella amico mio sei troppo bravo bella 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 dai sbigliattiamo sbigliattiamo bellissime sharder comunque sia la tuta che il casco che anche la livrea grande grande bravo bravo amico mio ok un alleggerimento per la sta schifiezza per la porsche beh 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 già che già che stavamo parlando di porsche c'è un alleggerimento gratis tanta roba non è male questa porsche quale porsche era quella che hai fatto tu sharder fammi vedere se magari posso usare quella porsche lì così la elaboro la gr3 9.11 rsr 2017 9.11 ciao amici amiche come state allora fammi vedere la 9.11 costruttore porsche dov'è la mia porschettina la porsche 9.11 rs 2017 è questa è questa posso usarla per la gara oppure no vado ciao sharder grandissimo grazie di essere passato bellissima bellissima livrea amico mio ma come non c'è scusami non è la 9.11 rs 2017 infatti fammi vedere 9.11 rs 9.11 rs 9.11 2017 eh per cui non mi fa vedere la livrea che è in raccolta ciao ragazzi ah perché ho cannato allora questo è eh questa sarebbe però di 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 charder eh dai corro in onore di charder ragazzi è troppo bella è troppo troppo bella na 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 vediamo se posso usare quest'auto nel bigliettazzo no 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 la vulcan la enzo la 918 la 918 eh la 918 spider la 911 fatemi vedere un attimo la 918 spider Eh sì, c'è un po' più di cavalli Fammi vedere la 918 Spyder Un attimino Se possiamo dargli una botta E tutto, è tutto, è tutto Vai, 911 Non possiamo Vedere una livrea, raga Perché sinceramente Senza livrea Non mi sembra gara senza livrea Questa non è male Questo qui è Non è male questa qui, eh Che poi tra l'altro è uguale a questa qua Il tedesco l'ha fatto arancione E questa l'ha fatto verde Certo che le livree di Scharder sono fantastiche Non è male neanche questa, eh No, Ugo Boss non mi piace Questa non è male, eh Carbone Non è male Questo mi piace però, eh Auto larga, no, 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 no Non spendo sti soldi per auto larga Ciao amici Questo blu non è malvagio, eh Diciamo che le livree di Scharder sono le più belle, eh No, auto larga no La voglio normale, la voglio Ciao amici Amiche La Monster Auto larga No, sinceramente Sinceramente mi piace questa qua Fatta dal giapponese, ragazzi Guarda che bella che è Aspetta Dov'è che è? No, Ugo Boss Sotto Aspetta Che non la sono persa Ma era questa? No, non era questa Questa Allora, invece del grigiozzo Eh Poi non posso chiedere tutte le livree a Scharder Questa mi piace Questa Eh? Porca loca 41.000 Ho speso 41.000, ragazzi Incredibile 41.000 ho speso, davvero? Magari fa pure schifo Magari non va Non riesco a vincere 41.000, vabbè Ah, visto che ho speso 41.000 Andiamo a vedere Che mega livree ozza che è Perché quelle di Scharder fanno paura Vediamo questa qua come l'ha fatta Non è male Force Design Non è male Non è male 41.000 non li avrei mai spesi però Mi ha beccato un po' in fallo Vabbè Andiamo subito al circuito di Le Mans Morbide Da corsa Morbide Perché devono tenere la stradozza E corriamo subito Tra i giri all'Aleman Con la Porsche 9 e qualcosa 9.18 Non ricordo più 9.18 Spider Del 2013 Vediamo un attimo Adesso si che si comincia A correre serio Ciao amici Vabbè Scusami I bei frenini Carboceramici Che quando schiacci Scusami 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 Ciao Ferrari Porca loca Scusami Scusami tanto Scusa Non volevo comunque Te lo giuro Ferrari Volevo beccarti Un po' come questo qui Scusa veneno Giù tutto gas Raga E chi la tiene per sterra Sta macchina C'ha anche la settima E vai E vai Porci Stare attento A dar gas Molto attento A dar gas 9.18 Adesso Beh Adesso si ragiona Prima Con la 9.11 Era troppo scarsa Perché si è inchiodato Il pedale Adesso In questi giorni Devo smontare Tutto il pedale Dargli una bella pulita Vedersi Riesco a risolvere La problematica Che ho Che mi si inchioda Ogni tanto Il freno Ciao Brasil Che bestia Che bestia Poi E' una Porsche Che tiene la strada Devo dire che Non ce ne sono tante Tiene Una bella Una bella E' una bella Bambolina Si riesce anche A dosare un po' Se sbagli Ciao Amici e amici Amici e amiche Di Twitch Come state Buona sabato sera Gran Turismo 7 Marco Drums Games 9 Sardegna Sardegna Perché quando mi cominciano Uscire poi le macchine Le ultime tre macchine Che mi mancano Sono soldi Ciao giovane Buon salve Oh my god Il giovane Stavo sbandando Come stai Come stai Amico mio Ma che roba Ma che roba Porsettino Ciao amici E amiche Questa curva Ragazzi La faccio sempre fuori Per fortuna Che non mi dà la penalità Oh è troppo potente Sta macchina Aspetta che gli diamo Un goccetto ancora Di Di TCS Va Mamma mia E' una belva E' una belva Ragazzi Chi la tiene per terra Chi la tiene per terra Sta 918 Te la faccio vedere Da fuori Ma che roba Bella anche da dentro Bella strumentazione Bella Bella Mi piace Mi piace a voi ragazzi Bellissima questa forza Vediamo anche come si vede Ci vede anche bene Ha un bel L'angolo Di visuale 9000 girozzi Oh La facciamo andare un po' Fuori i giri Ciao Leo Ciao Leo Non avete preso l'acqua Ciao Non avete preso l'acqua Saluto a tutti Sì Grandi Se ne vuoi Sì 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 Si guida che è un piacere Raga A parte sta curva Che l'ho fatta un po' Sbrowser Tanto potenza Che l'ho fatta un po' Urca Che l'ignate che arrivano a cambio Urca 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 Vai 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 Cacca miseria Viaggia eh Viaggia forte sta macchina Da 17 Siamo passati a 9 9 secondi E quindi Non è che Devo proprio Star tranquillo Eh Peggiorato 1 52 4 1 52 8 Cominciamo anche un po' Girato Ciao amici Come state Come va Porta Orca Nananananananana Nananananana Nananananana Nanananana cordolino, ino 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 le mani bella però raga la faccio sempre un po' troppo esterna ciao mio amore si? che fortuna, infatti si stavo chiamando e ho detto mamma mia che non vedono che siamo ciao ragazzi e drums vince ciao notti ciao buona serata bella ciarderino ha fatto una livreamo da panico adesso te la faccia vedere che non puoi mettere la mh? fai farmi vedere così? che devo in bagno? chate? c'è chate? non c'è ma ok l'altra è chioto driving park che bella porcettina questa bisogna farla livrea mamma come c'è freddo fa freddino fuori? finire 918 eh la 918 Porsche ed è una Porsche che non che sta in strada che non va via di culo incredibile ti ha detto che bella? no no madonna amore mia oh botta botta scusa che bella che è si frena si frena si frena vedete quella accendersi spegnersi dietro che è è di freno difettoso amore ok frena frena secondo me devi correre con questa è bella? si si le Porsche fanno tutte cagare ma questa qui tiene bene la strada e quando apri non va questo è 24 ore di le mani quella che c'ha i tre pezzi dritti e poi è oh va il freno? bella è un giapponese che ha fatto la libreria eh si i sardini non l'ha fatta se ci giochiamo la farà bellissima guarda che roba viaggia bene proprio beh quei tre cosi rotondi il Porsche è sempre stata iconica perché ne ha cinque ne aveva aveva cinque come si chiama quella birroconto? vabbè cinque di tre giri sempre più grosso giri velocità? si ce l'ha ma vedi che la mettono sotto no non è che c'è tanta velocità volevo correre volevo correre stasera con carita si può fare se funziona amico mio se riusciamo a giocare io e te sai che non riusciamo mai a giocare io e te direttamente ci vuole sempre qualcuno che fa l'host se riusciamo no problema bellissimo puoi provare anche questo vedete che si accende in continuazione il freno e questo è il problema al pedale che quando io accelero lui tene sempre a frenare un po' e quindi è difficile difficile fare soprattutto vedi vedi adesso vi faccio vedere orca miseria Marco guarda va va aspetta non lo fa sempre ma vi rendete conto perché fa tipo e vabbè qua può essere no vabbè lì può essere che è entrato la bs perchè il tcs viene a frenare per si ma lo notate in accelerazione eccolo qua vedete ogni tanto che si accende come se sta leggendo qualcosa ma poi effettivamente non sto schiacciando io eccolo qua ha visto eh guarda qua lo vedete qua in accelerazione eh e non c'è neanche il tcs eccolo qua ha visto eh c'è un problema proprio il pedale porca miseria se mi dispiace ma stai giocando con Loki qua? no 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 io e Loki non riusciamo mai a giocare insieme ma perchè non si riesce a fare la lobby eh non riusciamo a entrare dicere uno e l'altro però dopo proviamo no 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 quello era formula 1 ah si allora quindi questa? eh? le mani questa? no le mani queste le mani queste le mani? no quella è la riuscita eh si infatti la riuscita la riuscita la stessa è la stessa cosa sull'acceleratore di formula 1 oh porca miseria davvero? davvero? no chi gioco credo madonna questo qui cos'è? Kyoto driving park non me la ricordo ah si questa qui questa qui questa qui questa è bella questa è bella questa è bella questa ci giochiamo anche qui ragazzi no 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 mi ha tenuto dentro grazie murciera e adesso ti vengo anche addosso tu devi morire ahahah con la curva porca loca e qua è un po' più mettiamo tcs3 che toglie un po' più di trazione perché qua salto e far salto ah ma questa non è quella che facevamo noi amici è un tocco in più questa non l'ho mai fatto scusa F12 è bellissima è bellissima mi amore scusa scusa una donna una donna no la pista dico lunga non l'ho mai fatta così è una variante porca loca io voglio giocare con questa però con la mia macchina un po' questa pista con la tua macchina? un po' devi cambiare anche macchina però si pronta? guarda Tiene di brutto e frena, guarda! Porca Ferrari! No, domani faccio un colazione in pasta. Uh, si salta! Io vorrei cominciare la palestra. Non fare domani perché poi la borsa non è come rispetto. Non, non. Un bel pizzo e freddo. Il suo pochetto, faccio un pochetto. Non, non. Un pochetto. Un pochetto. Un pochetto. Un pochetto. Ok. Vai, gas, gas, gas. Faccio fare il chiotto normale, no, questa qui lunga. Questa è normale, questa qui vai. Questa proprio, e non riesco a farti con la tua macchina, perché non si può giocare con le gire 3, autostradali e basta. No, la Ferrari? No, la Ferrari è invidabile. La 4-5 la ti taglia, mi chiedono di sostenere la strada, appena gli dai gas gira. Questa qua è una figata, 4-5 la ti tagliamo. No. A parte che ho provato la F-C4 e la F-40. La F-454 Italia non la prova. Possiamo provarla adesso. Allora vedi che bisogna frenare? Dosa. gas. Adesso, è a destra, finita e tutta a sinistra. gas. 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 Aieiei caramba! Era buono il giro, nemmo? Cacchiarola! Proprio sul finale, è finita qua. C'è il destra, sinistra, destra. Dai, facciamo l'ultimo buono. Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Morca! No, 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 no! Ecco, queste sono le cose che di solito fanno le Porsche. Eh, perché ti parto via, se non stai attento a dar gas. Ci sono troppi cavalli, e la conformazione della macchina è... Vedi? Vedi che roba? Ciao amici e amiche di Twitch, come state ragazzi? Va, va, sono un po' di gas, eh? Certamente tanti cavalli... Qui era che ho sbagliato prima, che avevo dato troppo gas qui, qui non deve dare gas, zero proprio. Mi sembra che il giro è buono, non c'era una partigliore, eh? Madonna, che schifo! Ah, mi son girato forse? O era quello prima? Ah no, è questo che mi sono girato. Sì! 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 Allora, se vuoi provare questa te la faccio provare con la tua macchina, ma da fuori, non da qua, da un campionato a parte. Allora, posso fartela provare come vuoi. Sì! Ok, vediamo che cosa ci da Luca. Guarda, eh! Guarda che bella che è! Il mezzo è bello, eh! Comunque, è un po' come tutte le Ferrari e le Lambo, e per questo che forse è diversa dalle altre Porsche. Perché le hanno dato una linea come tutte le altre, come la McLaren. Vedi, guarda la Lambo. È lì, eh? Eh! 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 Larghissima, poi! Ma che roba! Sbam! Sbam! Sbam, Lambo! Fammi passare! Larghissima! Eh, qui di qua? Troppo gas! E non si rompono le macchine perché c'è l'accordo con le case che non si devono rompere. Ciao ragazzi! Non è che non sono capaci di fare le macchine che si rompono. Perché hanno l'accordo che le macchine non si devono rompere. Non so se la Ferrari o tante altre macchine dicono. No, non vogliamo che le nostre macchine vanno in giro tutte gibollate, no? Eh beh, giusto. Io lo ritengo giusto. Tanto se vai addosso c'è tutta incartocciata che lo ha significato l'anno. Quindi è una simulazione realistica al 100%. Ok! Ok! Ok raga! Come state amici? Allora andiamo ad incassare il bigliettozzo. Troviamo anche il controller qui così almeno faccio giocare un po' Carla. Allora andiamo a prendere il bigliettozzo poi gli facciamo la BRZ a Carla. Luca! Uuuuh! Il bigliettozzo. Mi schiacci tu la Ixamo? Perché voglio comprare... voglio un milione. Vai! Cosa vuoi? Un milione. Vediamo... No! Sono motori ma chi se ne fotte? Perché macchina? Il panda. Il panda 1000. BMW Z4. Vabbè ci sta. Allora, 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 allora. Ti faccio vedere la livrea perché l'ho tirata giù, guarda. Wow! Eh? Questa è la sua macchina. Infatti io ho chiesto se mi faceva... Se me ne fa una anche a me, Marco Drums Games. Perché è troppo bella questa della Porsche. Guarda che bella. Live streaming. Eh? Questa qua è già corso con questa? Io sì. Sì abbiamo corso. No, tu no. Ma com'è? Io non corro con questa gisciata. Eh provala. Come faccio io com'è? Devi provare tu se ti trovi. Cioè vuoi te la faccio provare? Trai a Monty che sei capace. E sai almeno vedi se la macchina ti piace o no. Perché se non ti piace... Se la provi già su un circuito che non sai... Faccio provare sul Dragon Trail. Allora, tu normalmente con la cosa... Allora, aspetta. Te la faccio a principiante. Poi dopo se sei brava e riesci e ti trovi con la macchina. Perché brava sei, bravissima. Se ti trovi con la macchina ti faccio... Aspetta. Eh, ma non so neanche se c'è le gomme. Non so nulla. Ah. Vediamo. Che gomme hai? C'hai le dure. Dai, ti devo comprare le medie. Ok. Sta correndo con la macchina di Scharderino. Aspetta. Scusa. Eh. Allora, questa non so se... parte via di culo... quando c'è le linee e le curve, eh. Il viaggio di viaggia. La... 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 La Porsche. Si dovrebbe anche frenare. Infatti frena perché hanno il GR3. Non mi sembra male. Non mi sembra che ti fa cose strane. Non mi sembra. Sembra un po' la Beetle. Eh? Sembra la Beetle. Eh? Eh, buona. Ma semmeno cambia anche un po' la macchina per girare. Perché è sempre la... la Subaru e la... Ciao Vertex! Ciao Carlita! Ciao Vertex! Sto provando la macchina di Stade. Sto provando il Porsche Vertex! Così almeno... BAM! BAM! Eh eh eh! BAM! Ecco Carla! Ho fatto una copertina Vertex che magari domani sera se giochiamo a Gran Turismo poi la pubblica te la faccio vedere. È fantastica! È proprio... Eh eh! Carla! È di Carla! No, no, mio amor! No, mio amor! Ecco, questo è il sinistra-destra del Porsche. Porca Porsche! Schiaccia... Eh, vai vai vai! D'altra parte! Tira! Ok! Recupera, mio amor! Bravissima! È lì che è abituata con la via Rezzetta che la via Rezzetta è un chiodo ma anche la Beetle invece se fai destra-sinistra tende ad andare. E' quella di a Beetle. La Beetle secondo me è proprio anche... visivamente affittissima. non aspetto greatness. è un altro video di rinforzare. E' un altro video di a Beetle? nel piano tutto... hym... No, me lo prendi... ormai non funziona il freno, no, bravissima, quattro deci di meno ciao bici, amiche di twitch, Carla sta andando a bragare i figuri sul porsche su porsche e li ha presi due volte quindi vuol dire che possiamo anche aumentare il livello di difficoltà la sta provando così voleva provare la pista quella di tokyo allora qui per tenerla dritta basta solo che non acceleri basta che non acceleri e dai sta dritta la codina diamo il replay raga perché è vero? perché la librea è quella del nostro amico perché io dico questa curva fatta così centomila volte il fatto che devi frenare brava bravissima vediamo la librozza della porsche di shard ragazzi devi prendersi un po' la mano però si è bello eccola qua il lupo, tu si è fatto il lupo, io il drago e il lupo bello devo chiedere di serio a provare un bel drago il lupo l'ha trovata questa roba è brava che legna fermo questo palestra è entrata bravo tieni la sinistra, tieni la destra sta imparando il mio modo qui ha fatto un po' di cazzate mi resta al centro, tanto per questo lui ahahahah ok sinistra a destra stai a sinistra poi vai a destra giusto un po' troppo in sinistra però ci sta un po' troppo in sinistra però ci sta un po' troppo destra, capito? deve stare più in centro però ci stai perché comunque sei dentro vediamo l'errore qua brava brava non l'hai troppo dentro e poi eri centro, eri dentro dentro curva quindi hai potuto aprire prima e l'invece dentro eccolo qua qui hai dato c'era qui hai c'era ah no proprio tu la eh no, ti ha presa prima eh eh per l'aria per favore lo scarico dentro in macchina ah c'hanno il cosa Formula 1 del Giro 3 lo scarico del motore lo scarico del motore ahahahah piccolo col petto eh nooo la peggio belle Dragon MDRT deve stare più a destra allora riesci a farla più bambam 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 eh 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 ma eh forca di vera e sì ciao amici e amiche di Twitch come state? forca doca qui ecco io non so perché sbagliate perché eri giusto prima eri dentro si deve c'era l'altro troppo però ci sta bella visto sinistra tanto destra e sinistra destra vedi Guarda sinistra giusto riesce accederà fino è fatta perfetta Se la fai così impari proprio a farla sempre così di basso Poi quando corri con noi hai anche delle chance C'è con noi con Charger, Vertex Ti devi ricordare però nei 3, 4, 5 G, Loti, Andrea Non è niente male sta macchina vuoi provarla sul tokyo Tokyo Express no e fuji No Tokyo driving park mi sembra Tra l'altro non neanche fatta io Ma guarda che cazzo di tokyo è Expressway Ma forse è expressway Qua è tokyo si che bello No expressway non è expressway, ma che cazzo di tokyo era? Autopolis Ma non credo che era questa qua Sì sì Ma che cazzo di tokyo è Ma che cazzo di tokyo è C'è scusate Nottevi i dragon Qua? Non vedi un po' la po' la puoi Ma dovrebbe essere No non è questa No non è che la profe Deve deve essere qui eh Deve deve essere un cuore è questa solo che quell'altra è questa qua no no questa è quella normale ma si è quella qua Tokyo Dreamy Park eccola qua bella sei pronta? vai vai questa te la ti spiego perché non la sai più questa è da terza a quarta diciamo terza con questa mantieni poi c'è un sinistra destra a sinistra che devi stare attenta non è da fuoco è da scalare bravo adesso fuoco tutta e c'è una destra che è da terza a quarta mantieni perché è lunga poi chiude un po' adesso dai tutto sinistra piena stai in mezzo perché c'è un salto vabbè quindi si è da piano frena e sinistra seconda sinistra seconda destra seconda eh si eh mo ho fatto detto destra invece di sinistra ma vedi che cazzo sinistra ma va che non ti dico un cazzo non fammi girare il coglione destra eh destra sinistra terza due o seconda anche vai adesso c'è sinistra eh fai terza quarta destra terza scusa sinistra eh mo mi confondo destra terza seconda eh sarebbe un terza ma magari può anche mettere la seconda eh eh seconda 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 non arrivare mai a essere troppo lunga mia morte lì hai visto che è lunga eh è legato comunque cazzo ok dai questo è il giro non è male eh non è male la pista questa è brava allora stai a destra perché la curva è a sinistra quarta non fa qualcosa di strano a destra a sinistra che questa macchina ti eh allora non stare sul cordolo questa macchina non puoi prendere cordolo plena plena eh sei tra poco ok ti ho messo diritto la Genesis allora sinistra destra dai giù gas un po' dai giù gas sinistra giù gas giù giù il senso tira via gas tira via gas questa è la quarta pessimo vai frena però quando ti dico mantieni mantieni vai gas no 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 attenzione pensate devi tirare un po' di più però non fa niente destra piena salto sinistra seconda quindi frena destra piena sinistra mantieni mantieni terza sinistra poi c'è un destra attenzione molla ok bravissima adesso c'è un sinistra seconda bravissima bravissima attenzione gas adesso destra terza e sinistra seconda quindi molla gas frena bravissima bravissima un po' troppo ferma un po' più un po' più di gas adesso un destra seconda attenzione 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 adesso gas adesso gas bravo bravo bravissima 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 ok va bene ok va bene dai ciao saluto a tutti ciao 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 prossima volta a chiedere l'amico scharder se riesce a fare la livrea di questa non è male sta sta porsche devo dire la verità se riesce a fare la mia livrea è la livrea di di tutti noi bella bella è piaciuta ciao ragazzi ciao amici ciao amiche come state ahia sono fatto malissimo dobbiamo fare questa esperienza sul circuito vediamo un attimo come ci viene fuori ciao amici Ah una minchia proprio, madonna ragazzi che roba. Oh che bella minchia, 25 e 4, caruseli ragazzi proprio. Ciao amici, come state? Il 4702, ma l'ha presa per il giro, è una presa in giro, 24702. Ai 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 ai, caramba. Ciao amici, amiche di Twitch. Eh sì, 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 ho fatto 24702, non ci credo ragazzi, non ci credo davvero. Nooo, ho perso un po' di tempo dove? A fare destra e sinistra forse, o la prima? Beh vabbè, volevo proprio prendere la dritta eh. Ha 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 ha. Ehm... Allora in quinta è troppo lento Devo andare in sesta Secondo me Oh, madonna Oh, ho fatto 24,7 Eh, cioè Basta? Una volta sola? Allora in quinta è troppo lento Sesta è solo la fine Proviamo? Allora in quinta è troppo lento No Porca loca Forza? Troppo Troppo sesta Ciao amici e amiche Come state? Caspita Ho fatto 24,7 2 24,7 2 Non ci credo Spera Rocky 25,6 Sorpresine Grande Rocky Grande, 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 grande Rocky Vediamo se riusciamo a farlo a Lochino Porca lochina Allora se vado troppo 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 veloce Mi butta fuori Porca Ah, dai, vai, vai, vai Non c'è niente Fa niente 24,7 Incredibile Vediamo un secondo pezzo No, no, non voglio dimostrazione Ciao ragazzi Come state? MTC No, no, non voglio dimostrazione No, non voglio dimostrazione Mamma mia E' proprio Tosta Pista e macchina Sembra Di andare forte Invece Dronna Io andrei a fare una gareta online Porca roca Tosta Toste, eh Toste le prove sul circuito Raga No Secondo me è da quarta Questa l'ora Cento e novanta Terza Terza Quarta Toste le prove sul circuito Lentissimo 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 Lì, eh Mamma mia Mamma mia Sarà Sarà perché sono stanco Cacchio Ciao amici Di Twitch Come state Ragà Uaah 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 T6 T6 Ricordone Incredibile Cacchio no vabbè dai peggio che andare di notte ragazzi niente niente stasera non è serata da da prove andiamo a vedere un secondo le librerie o quello che ha fatto il grandissimo Loki 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 vediamo se ci sei ah no aspetta bella grande Costantino ma il Costa Costa te l'ha fatta a Costa Costa mio amico eh Costantino grandissimo questa qua Costantino 03 grande tutta vista nuda vedi per un attimo a farti vedere eh sì grande grande diglielo pure che sei mio amico ok grande ok una volta giocavamo sempre poi dopo non non abbiamo più giocato strano però è così vediamo il drifterino maester ma te l'ha fatta con scritto Loki o è generica Loki o è generica Loki ah ok ci starebbe bene un Loki e anche l'amico Costantino si perde via di bruci a fare il librerie è proprio bravo anche lui grande 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 però fuma poco questa macchina secondo te è la eh sì eh sì eh non lo so se le fa sinceramente bella questa è bella questa è bella l'ultima è top l'ultima è top grande grande Loki bravo 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 sì bravo bravo secondo te la la fa ah non lo so devi chiedergli a me risponde ma molto molto boh risponde su whatsapp ma non non roba di giochi stavo dicendo una cosa può essere che cosa stavo dicendo questo non è male sdrt sì l'ultima è Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, non hanno masso quella che manca a me, però devo far 20 milioni, secondo me anche di più. Allora, vediamo un attimo, bisogna fare un po' di care sport e poi faccio l'ultima e ci vediamo domani. Grazie. Grazie a tutti. Intermedia. Intermedia. Quindi vuol dire che sull'acqua, bellissimo. No. Perché mi fa correre con l'intermedia? Porca miseria. Quella salvo! Ciao amico mio, è finita la tua Megalive, grandissimo! C'è un caldo salvo che non si ha voglia neanche di... Eh, io tutto bene, tutto bene amico mio, sono in ferie, sono in ferie, quattro settimane. Quindi possiamo anche un giorno beccarci così facciamo io e te quella Megalive che vi spieghi come fare le file giuste di olivo e vite, eh amico mio? E come, e che macchine comprare e come usarle, ecco, volevo fare tipo un bel tutorial del... da uno che veramente li sa usare. Dai, ci mettiamo d'accordo. Tu, invece... Come va le live, amico mio? Da quando è cambiato il nome... Eh, cacchio, non entravo più perché... Pensavo che non stavi streamando. Che deficiente di gioco. Eh, sì. Sì, sì, infatti, infatti. Ho notato anch'io un calo... Un bel po', eh. Però, vabbè, dai. Io diciamo che tanto di andare al lago non mi piace, di andare al mare non mi piace. Poi adesso mia moglie non so se mi costringerà a farlo. Io preferisco andare in montagna, se proprio devo. Io amo la montagna, camminare, prato, mucche. Qualche ruscellino che è a meno 74 gradi l'acqua. Acqua buona, aria buona. Se no, streamo, perché comunque se sono a casa io gioco. Quindi, se sono a casa gioco, streamo. Voglio finire un po' di giochi che ho... che avevo da fare. Però sto facendo anche un po' di live su YouTube, così. Mega Nissan. Sì, 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 così. Invece di fare i video sulla console, poi devo star lì mezz'ora, aspettare che mi rimonta. Li faccio direttamente la live e... e così lascio tutti i giochi completi, no? Sto finendo Stranger Sails, 10 Dead Sails. Che sono quei giochini carini alla Nintendo. A me piace un bordello. Domani farò, credo, la seconda parte del chiamato di Mesh Room 2. Bellissimo gioco di Cunghetti. Andiamo se riusciamo a migliorare un po' il tempo, salvo. Ciao, buonanotte amico mio. Buonasnoce. Ciao, ciao, ciao. Alla prossima. Grazie che sei passato, eh. Poi appena... Tanto sono a casa anch'io, se ti vedo che vai in live, passo anch'io a trovarti. Ciao, ciao amico mio. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Grazie a tutti. Ok dai, 36 diciamo che posso accontentarmi. Vertex 28. Bravo. Andrea 29, Zuvituzzo 29, 9. Uomo tigre 30, grande il puzzo, l'occhio 1,32 e 1,36, proprio a stragrande raranza, proprio top. Facciamo l'ultima, che dovrebbe essere quell'altra, dai non partire filmato, che cavoli. Questo che cos'è che è? 12 giri, 5, facciamo questa. Qualifica tempo, vai, che facciamo la gara. E poi ci salutiamo, amici miei. Qualifica. Bello. Ah, ecco la gara merdosa. Ah, ho capito qual è la pista. Mamma mia, questa la odio. Mamma mia, questa la odio. Ciao amici e amiche di Twitch, come state ragazzi? Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, grandissimi. вышive, la gara merda. Oh. Oh. Perchè ti sei girata, porsche? Andava bene il giro? Ciao amici, come state? Grandissimi! Anche? Lei a chi riesco a fare ancora un giro? Vabbè, per fortuna c'è il muro che mi ha attunuto dentro, dai! Ciao amici e amiche di Twitch! Come state ragazzi? Non ti girare cazzoide di macchina! Quella Alex! Grande! Ciao! Ciao! Come stai? Caspiterola! Sta macchina qui, sta Porsche tende sempre ad andare via un po' di culetto! Come stai Alex? Tutto bene? Grandissimo! Mi fa piacere vederti! Ciao amici e amiche di Twitch! Come state ragazzi e ragazze? Siete tornati dalla passeggiata eh? Dal mare, grandissimi, grandi grandi grandi! Questa è una gara online, vediamo un attimo cosa salta fuori eh? Perchè già è un casino così, online sarà un disastro! Un disastro! Un disastro! Un disastro! Un disastro! Perchè già! Un disastro! Un disastro! Un disastro! Un disastro! Un disastro! Eccola qua che inizia! La garetta! Facciamoci una bella garettina! riscaldamento troppo poco 30 secondi a bene proprio ultimo grande grande nessuno usa la porsche 458 italia la beetle facciamoci stai 5 giri di disperazione ciao amici amiche guarda quotidiana online credo che sarà molto triste non è male questa porsche la livrea è quella di charter design del nostro amico maestro livreatore infatti se vedete ha il charter design un'attività l'attività non la 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 Grazie a tutti. 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 Di testa di cazzo, di macchina. Ecco, vedi? Il bello non è che va dritta, no? Si deve girare sta scema di porsi. Diciamo che mi frega solo finirla. Allora, ero sesto. Allora, ero sesto, cacchio, cacchio. Allora, tutti con la connessione merdosa. caspita l'ho lì però non ero distante se non sbagliavo sta cavolo di Porsche sul dritto ciao amici e amiche di Twitch come state? se non siete iscritti iscrivetevi al canale grandissimi è che arriviamo a 630 follower dai 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 ma che cavolo metti in prima Marco anche te controlla la marcia ciao ragazzi ragazze come state? ma vai a cagare ma cosa fa così? ma io non lo so sta Porsche sta qui è quella che ha fatto il sharder però non è che mi trovo tantissimo no no cambio io ciao Gianmarco amico mio ma è stato ragazzi è una gara online tosta questa cazzo di Porsche va 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 perfetto io oggi mi sono riposato di brutto ho fatto un sacco di video mi sto godendo la domenica e domani il primo giorno di ferie e spero che nessuno mi faccia andare il mare o da qualsiasi parte io voglio stare a casa sul mio divanello a giocare ciao ragazzi come state? vintici e vintiche vintici e vintici caspita quello di davanti mi sta andando via il tedesco ero sesto raga ero sesto se non si girava sto rottame di Porsche ciao amici e amiche come state? guardate di twitch eh sì qui si è girata qui mi si è girata va 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 come gira va porca stavolta l'ho ripresa però ah quello del settimo è andato ormai se non sbaglio posso giocarmela con l'ottavo la posizione che sono adesso mantenerla ciao amici amiche di twitch come state ragazzi è anche tutto sconnessa sta pista non è tosta raga c'è un aereo che mi sta mi sta partendo in testa tutto cazzo di aereo porca porca dai eh sì eh sì io ce l'ho sopra sto cazzo mi ha dato un secondo di di penalità ma vai a quel paese porca è qui no non ci credo raga penalità penalità boia penalità boia e vabbè che schifezza vabbè dodicesimo tre posti ma io non ho mai capito di a che che grado sono online non ho ancora capito io sto di a se è buona se non è buona che gara della minchia d è il più basso ah sono ancora nella categoria dei merdoschi e a la che c'ho di fianco dovrebbe essere sportività al massimo guarda la mega AS al massimo si aveva fatto 10 gara online guarda che bella adesso io volevo trovare e questa è la porsche di shard lui si è trovato una mega è riuscito a trovare quel mega adesivo fighissimo ciao amore io ho trovato questi è il nurburying amico mio ci provo domani sera ma credo che sì credo che proprio con la faccia lì triste credo proprio amico mio che è andato ho provato a fare stasera anche un'altra pista non riuscivo a stargli dentro a parte che stasera sono stanco ciao ciao samu grandissimo ma iscriviti al mio canale se non sei iscritto grandissimo samu amico mio è così allora questo non è malvagio ci provo io ci provo sempre ragazzi non smetterò mai di provare però però è dura allora dragon vediamo i draghi vediamo i draghi stavo cercando un bel cavolo di fallo per le salve eh sì capì però non è così semplice come dirlo amico mio eh lo so ci proviamo ci proviamo domani ci provo domani ci provo penso che sarà molto difficile ma mai impossibile non riesco allora col volante è impossibile col volante ti dico già non ci provo neanche devo farlo col pad però col pad devo andare col cambio automatico quindi già è quasi quasi impossibile il volante dovrebbero arrivare le torx per smontare i pedali quindi tempo di farlo eh col volante frena frena lui non c'è niente da fare anche adesso mi frenava non c'è proprio niente da fare amico mio perché sharder dragon si scrive solo dragon drago drago o dragon vedi questi qua si sono fatti drago corse oh vedi bravo bravo perché il pad non funziona ragazzi allora drago dragon eh è dragon l'unico chi cazzo è il drago in inglese come si scrive dragon drago guarda che vediamo come si scrive magari in portoghese fammi vedere allora io sto aspettando come riparti la pedaliera due settimane oh bravo così mi piace così ho già più speranze perché se no le speranze erano già andate ti dico la verità grande grande andrea così ti voglio così ti voglio amico mio va bene fammela riparare se riesco a ripararla lo facciamo dai grande grande grazie 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 gentilissimo allora traduci italiano facciamo spagnolo allora drago allora drago 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 continuar possibile continuare drago in spagnolo no che cazzo vuol dire drago drago è drago cioè boh vabbè in giapponese come cazzo lo scrivo tedesco draken 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 sto cercando se riesco a trovare un drago Andrea vediamo no un tedesco non c'è allora draken non c'è poi vediamo un attimo che lingua possiamo cercare un corsivo francese dragon l'inglese sarei stessa eh dragon per forza o c'è o c'è o c'è o c'è o non c'è ciao amici come state eh sì dai inutile questo qua vedere le varie lingue è drago o drago o dragon sto cercando un dragone ragazzi vediamo stili gran turismo guatemala tutto bene o la o la come stai in guatemala la china italia è molto che no non c'è il drago sto cercando un drago drago il drago il drago ma qui è dragon ball tutto bene ok perfetto ok molto buon allora ciao ciao grandissimo adesivi adesivi del dragon e sto cercando un adesivo du drago ciao ciao loki buonanotte anch'io sto facendo le ultime due stupidate e poi questo è l'unico carino questo non è malvagio eh non è che ci sia molti draghi eh sono molto molto draghi invece sharder ha trovato il lupo il lupo come si scrive in inglese Andrea lupo in inglese please wolf grande effettivamente mi era venuto in mente anche a me però non volevo fare figure di merda allora ciao loki buonanotte amico mio sì ma non c'è quella di sharder eh guarda ti faccio vedere quella di sharder o l'ha fatta lui aspetta vediamo un secondo la macchina ne prendo una normale voglio solo vedere se riesco a farlo qualcosa di interessante non credo facciamolo su questa qua ma io c'ho tutto non lo so ti faccio vedere se vuoi aspetta ti faccio vedere perché io c'ho tutto mi rimancano solo quelle tre ma quelle tre non sono uscite allora ti faccio vedere che cosa c'è qua se ti interessa qualcosa ma qui sono queste adesso ti faccio vedere queste qui allora la maserati del 54 la nista skyline dell'84 la mark 4 del 67 la 155 la xj13 la ghia rostra della playmoth la porsche 356 la cf50 la gt350 della shelby la escudo e type coupe e la mazda rx500 queste sono quelle che sono uscite devo provare si la f50 è bella è bella ti dico la verità però è un bel mi schizza mi schizza proprio carrozzeria ok carrozzeria allora vediamo qui su è bella è bella qui su è bella qui su Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cioè guardate cosa dovete fare ogni volta, comandi, modifica le due, ridimensiona, ripristina, ok. Certo, per farti capire che schifezza sta venendo fuori... Che schifezza sta venendo fuori... Pensa che schifezza sta venendo fuori... E cosa riesce a fare invece il nostro amico Sharder... Incredibile, raga... Davvero... Ma è che me l'ha messo? Eccolo qua... Perchè lampeggia? Boh... Come fa ragazzi davvero... Mi... Mi chiedo... Mi chiedo davvero... Come fa... Ma poi li fa sfumati... Cioè... Come fa... Ma quanti strati ci mette poi... Ma va che cagata... Salviamo questo capolavoro... Salviamo questo capolavoro... Salviamo questo capolavoro... Questo soldato Ryan... Incredibile... Guarda che roba... Bellissimo... Guardate... Guardate... Guardate che roba... Che roba meravigliosa... Perchè è fatto male il mio... Guarda che... Però non è un bel vagio eh... Vediamolo in una gara... Non era proprio bruttissimo... Spray... Ma... Non era proprio bruttissimo... Non è definito... Infatti col computer non riuscivo... Oh grazie Samu... Della... Della... Iscrizione... Scusa mi sono accorto adesso... Grandissimo... Grazie... Thank you... Thank you... Samu... Allora... Vediamo un attimo... Incredibile... La livrea... Bellissima raga... Vediamo... Incredibile... La livrea di drums... Come faccio... Come fa... Charles... Sembra... Una cacata... Qua... Vediamo... Se riusciamo a stare in strada... Perché voglio vedere... Il mega replay... Grazie... 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 Mi hai tenuto dentro... no... The Lamborghini... Pорca loca... Che frenata... La Ruff, Ruff Ruff Vedo proprio vedere il mega capolavoro di Marco Dranz Davvero non so come fa Scharder, vi dico la verità E' veramente bravissimo ragazzi Perché uno dice ah si è carino ma niente di che Poi ti metti dietro e devi buttare giù le idee su un programma fatto da loro dentro un gioco Quindi anche soltanto magari se hai le idee buone andare poi a metterle dentro è un altro discorso Poi tra l'altro ci mette anche pochissimo La Ruff La Ruff Grazie a tutti. Vediamo se riusciamo a vincerla, così vediamo il mega replay di questa ibrea fatta da drums, fantastica. Ok, andiamo a vincerla. Io vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo domani, non so se faccio pomeriggio sera o solo sera e vi ringrazio di essere stati con me. Sono abbastanza stanco, non so perché, non vado a lavorare e sono più stanco di quando vado al lavoro. Vi ringrazio, vi ricordo che ho un canale YouTube, sempre Marco Drums Games, dove mettere un sacco di video, un sacco di cose picchissime, unboxing e un sacco di roba. Qui su Twitch, iscrivetevi al mio canale e come si dice, grazie, grazie, grazie mitico Samu, grazie Andrea che sia stato con me, grazie a tutti quelli che sono passati già, Marco, Loki. Guardiamoci un minuto di questa mega livrea drums, pratichissima, chiaramente mi inquadra sempre la parte di qui, benissimo, bene ma non benissimo Andrea. Ecco, guarda che bella, dai, guarda che bel pasticcio, sembra una cacata di uccello. Beh, non è malvagio quel drago lì, sinceramente, è l'unico colorato che ho beccato. Devo vedere se Sharder riesce a modificarlo, a togliere le due onde e tenerlo così. Sarebbe un qualcosa in più, ma anche perché il drago MDRT l'ha trovato un drago che è fico. Però proprio per farmi la livrea me del canale, vabbè, fa schifo. Ciao ragazzi, buonanotte a tutti, buonanotte, 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 buonanotte. Ciao, ciao Andrea, grazie di essere venuto e grazie Samu della follow. Grazie, ciao, 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 ciao. Ciao. Grazie a tutti